Siamo in compagnia di Gilles D'Aspelier, Managing Director di Sonitalia, ci piacerebbe avere qualche impressione dopo un anno di permanenza presso l'azienda. È un momento molto particolare, ma questo mercato sta crescendo molto grazie al mercato TV, ma anche sul discorso foto c'è un sviluppo molto interessante sul reflex, ma anche sul mercato di sostituzione sulle macchine fotografiche. È un momento veramente di sviluppo e di crescita sul mercato. Un mondo full HD che è veramente in sviluppo enorme. Per esempio è possibile adesso collegare una macchina fotografica con un LCD TV e questo cambia un po' le cose perché adesso la gente vede le foto solo sul PC. Sì, abbiamo lanciato la PlayStation 3, è una macchina per giocare ovviamente, ma è ancora un'opportunità perché ha un disco fisso che permette di mettere tutte le foto che si fanno con una macchina fotografica. E sul reflex abbiamo un prodotto adesso sul mercato che si chiama Alfa, ma abbiamo un piano di sviluppo importante. Quest'anno vogliamo lanciare due nuovi prodotti per completare la gamma con una fascia più media e alta. Vogliamo anche trovare nuovi consumatori per questo mondo reflex perché ho sentito per esempio che le donne sono molto interessate a comprare un reflex e questo mi piace molto perché è un'opportunità per trovare nuovi consumatori che vogliono fare delle belle foto.